.it Ci vediamo lì Tecnica, personalità, creatività, interpretazione, un vero artista Sa quello che serve Sei pronto a mostrarci le tue qualità? Ritorna DJ on stage, la grande sfida dell'estate Sei un cantante? Hai un gruppo? Vuoi esibirti sul nostro prestigioso palco di Riccione? Vai su DJ.it, segui le istruzioni e poi candidati Potrebbe essere la tua